...che meglio crede, come diceva anche il nostro amico, con le maglie a proposito più grandi o più piccole. L'esempio indicativo di quest'animale è anche l'estetica che spesso è utile per avvicinare i bambini. Non a caso nelle fattorie didattiche si inseriscono le chiocce con i pulcini che danno un aspetto romantico, di tenerezza e quant'altro. E trovare delle chiocce che covano spontaneamente, producono pulcini, già sta diventando un problema. Già sta diventando un problema negli ultimi 10-15 anni, perché diventano sempre più rare le galline disposte a covare in quanto gli allevamenti a batteria, che dicevo prima, selezionano dei polli che stanno perdendo completamente la possibilità di covare, dato che le uova vengono incubate in incubatrici elettriche. Io stesso ho avuto sempre da piccole situazioni di questo tipo, fino a un certo punto in cui le mie galline, un po' alla volta le ho perse completamente, voi per la volpe, l'anzianità e quant'altro, e le galline comprate non covavano più. 15 anni per ritrovare delle galline che si mettessero a covare. E su 7-8 galline due hanno cominciato a covare. Su 7-8 due hanno cominciato a covare, una non era tanto convinta, infatti si alzava e se ne andava ogni tanto, perché il loro istinto è stato come se fosse dilavato nel tempo, a fare solo il pollo d'allevamento, crescere e ingrassare o per la carne o per le uova e poi via. Voi sapete le galline ovaiole quanto tempo le tengono a fare le uova? Pochi mesi. Una gallina potrebbe vivere 5-6 anni. Pochi mesi, 3 mesi, fanno le uova 3-4 mesi e via. Allora, una situazione del genere, anche bello per chi ha i bambini o una fattoria da far visitare e quant'altro, e questi animali sono molto più resistenti di quelli che adesso invece vivono in giro. E quelli di una volta lo erano ancora di più. Io da piccolo mi ricordo che una chioccia era, non è vero che hanno un cervello da gallina, nella loro specialità a fare la chioccia, a levare i pulcini, a saper scegliere, a indicare ai pulcini quali sono le piante da mangiare, quelle da non mangiare, quali sono i pericoli e quali sono le cose non pericolose, sono degli specialisti. Bastava che passasse un nibbio, un grosso volatile simile ai falchi, bastava che volteggiava un nibbio, un falco, e metteva un suono particolare alla gallina, la chioccia, in questo caso è una chioccia, non è una semplice gallina, e tutti i pulcini correvano, facevano una corsa velocissima, breve, e poi si fermavano a terra. Dove stavano, stavano. E' uno spettacolo, queste cose si vedono in certi documentari di certi animali selvatici, dove la mamma, chioccia, che si trova al momento, emette un verso, che è un grido d'allarme, per un certo tipo di pericolo, cioè il pericolo veniva dall'alto. E quindi se il pericolo veniva dall'alto era bloccarsi fermi a terra, perché se si razzolava il predatore dall'alto li poteva individuare. Bloccarsi fermi, lì dove erano. E si passavano anche per dare meno sagoma visibile a chi passava dall'alto. E il grido d'allarme era divertentissimo, perché faceva... E tutti i pulcini, tatatata, e si bloccavano in pochi secondi. La chioccia che ho levato quest'anno, dopo tanti anni, non la sa fare più sta cosa. I falchi passano e lei pascola, tranquilla. Perché ha perso l'istinto di difendersi da quei predatori. Tra l'altro a me le galline non sono state mai predate dai falchi. Non è vero che i falchi si lanciano, cioè è molto molto raro. È più invece vero che le galline vengono predate dalle volpi anche in pieno giorno o dalle faine se c'è un buco nel pollaio di queste dimensioni, di 8-10 cm di diametro. Dalle mie parti sul pollino c'è stato un periodo negli anni 90 in cui c'erano solo le volpi e quindi bastava chiudere un pollaio con una rete a maglie grosse. Bastava che non passasse la volpa e tutto bene. A un certo punto sono cominciato ad aumentare i predatori del tipo delle faine e donnole che passano in fori molto piccoli. E tutti quanti si sono dovuti organizzare e richiudere i pollai con delle reti a maglie più strette. Non c'era niente da fare. Perché mettere degli animali, prede, in un luogo naturale, una campagna, una periferia, quello che sia, significava attirare dei predatori e dirgli guarda qua c'è un supermercato con le porte aperte, fai tu. Significava quello, attirare i predatori e fargli quello che vuoi. Il predatore quando entra in una situazione del genere saccheggia, tale e quale come potrebbe saccheggiare qualcuno di noi che si trova in condizione disperata di fame. Anche quando si va in cucina, si arriva in casa, si affamati, si aprono tutti i mobili e si comincia a vedere dove mettere le mani. Perché quando si ha fame non si ragiona. Il predatore in preda alla fame atavica e alla fame cronica se va in un pollai uccide tutte le galline o quelle che riesce ad uccidere. Perché l'intento sarebbe farsene una provvista oggi perché poi domani non ce ne saranno più. E allora noi dobbiamo cautelarci da questo punto di vista. Anche perché è sbagliato dare all'animale selvatico l'opportunità di nutrirsi in questo modo. Quello non è più un animale selvatico poi. Non è più abituato neanche lui ad andarsi a cacciare le prede per fatti propri. Infatti dal punto di vista naturalistico non è giusto aiutare gli animali selvatici. Finché se la possono cavare devono fare da soli. Perché se li alimentiamo noi diventano animali domestici. E quando noi non li alimentiamo più muovono di fame. Pure loro. Altra foto, altre immagini. Non solo polli. Perché tra queste razze avicole ci sono delle varietà che chiamiamo razze ma in realtà sono delle varietà di polli ornamentali. Ornamentali perché oltre a fare le uova e le loro funzioni quelle che sono sono molto belli da vedere. Sono indicative perché vedere un animale del genere come questo qua in basso a destra sembra quasi più una pernice o un animale selvatico piuttosto che una gallina. E invece è una gallina. Come tale quale questa gigante rossa qua. come pure queste qui dal ciuffo o queste qui che conservano il piumaggio infantile. Questa è una forma di allevamento di pulcini che anche da adulti conservano questo piumaggio leggero come se fossero appena usciti dall'uovo. Allora l'ultima ricapitolazione sulle emissioni che era la lezione stamattina e sono questi alcuni elementi che noi andiamo ad immettere. Ma ci possiamo divertire e sbizzarrire con tanti altri parametri. L'acqua, e l'avevamo parlato per proposito delle irrigazioni, gli arbetti, gli arbusti, i rampicanti e le erbacee, nuove piante, pollina e compost e poi sotto c'erano i polli, le api e i polli. Abbiamo dovuto restringere il quadro perché non poteva essere ripreso bene, ma c'erano api e polli. Ok, abbiamo finito quello che c'era rimasto stamattina e adesso, un attimo di pazienza che cerco di ribeccare la lezione del pomeriggio. Allora adesso passiamo alla parte clou, arriviamo veramente al cuore della nostra lezione che sono, dopo aver visto i componenti, le emissioni, adesso passiamo a quelle che sono le opportunità e la produzione. Io vorrei prima passare alla produzione perché nei fini pratici è quello che ci serve. Teniamo sto giardino foresta, cosa ci facciamo? Andiamo a vedere cosa si può fare. Produzione, eccola qua. Ok, la produzione. Prima cosa, cosa si produce nel nostro giardino foresta? Quelle di cui abbiamo bisogno in ogni istante della nostra vita. Respirare, quindi ossigeno. Qualsiasi pianta che si mette, oltre ad essere bella, i frutti e quant'altro. La cosa principale, mi sono permesso di metterla come prima, perché non bisogna dimenticarsi che la mattina ci si alza e bisogna dire grazie anche tra tante cose, bisogna dire grazie anche alle piante che fanno la fotosintesi, ancora a costo zero. E la fotosintesi la fanno senza nessun marchio registrato e senza pretendere nulla in cambio. O ben poco. Quindi respirazione. Le piante assorbono l'anidride carbonica, a volte anche di notte emettono l'anidride carbonica perché le piante possono funzionare in due lati, in senso che possono produrre ossigeno prendendo l'anidride carbonica, ma possono anche prendere ossigeno ed emettere l'anidride carbonica. Sono autoreverse, insomma. Poi, andiamo avanti, mitigazione del microclima. E l'avevamo affrontato questo discorso un po' parlando di qua di là con alcuni di voi, in quanto un bel giardino, un bel ambiente, curato o meno che sia, questi sono ambienti già un po', secondo me, troppo curati. Penso che siano dei giardini di grande hotel o di villette super curati. Non è necessario arrivare a qualcosa del genere come qua in basso, l'ultimo in basso a sinistra. C'ho il mouse che ogni tanto se ne scappa. Allora, arrivare a un giardino del genere è già troppo. Siepi troppo tagliate, siepi troppo curate, troppo schematico, troppo di tutto. Troppo regolare, grazie. Va bene, è più una situazione come qua in alto a sinistra. Allora, lo stesso si possono mettere delle panchine, però, dove è la differenza? Questo è bello dal punto di vista architettonico, ma costa di più per mantenerlo. Il solito prato inglese che dicevo l'altra volta che mantenere l'erba verde nel sud Italia è un'operazione da matti, è controproducente, contro ogni senso, ogni logica ed è un'operazione assurda, un solo termine, assurda. Lo fanno perché è una moda mettere il prato verde in un ambiente quasi semidesertico dove non c'è acqua neanche per bere, figuriamoci, innaffiarci l'erba. Dicevo, e lo ripeto per chi non c'era, il prato lo si può tenere allo stesso modo, ben curato, ben tagliato, solo che anziché verde, giallo. Le piante curate, tagliate, un tappeto giallo ben compatto, soffice e morbido e tale quello è quello verde. Danno forse un senso di freschezza in meno il giallo rispetto al verde, però dà tanta manutenzione in meno anche e tanto costo in meno. innaffiare con l'acqua l'erba nei prati aridi a volte può portare a degli scompensi alle piante e nei casi di esperienze che ho avuto delle persone hanno perso gli alberi, gli sono seccati gli alberi perché irrigavano troppo il prato. Quindi il terreno è andato in saturazione, la temperatura è alta, l'acqua si è surriscaldata, le piante si sono seccate, sommarcite. Ancora mitigazione del microclima che dicevo non è un aspetto trascurabile secondario perché una cosa è avere un ambiente in cui ci puoi stare all'ombre a magari rilassarti o passeggiare, un'altra cosa è stare in un prato al sole ad arrossirsi. Poi cominciamo con quelli che sono un po' la roba più sostanziale. Quando si va nell'orto non si va con la bustina di plastica, dicevo ieri la roba soppesata con due chili misurati, si va con la cassetta, anche se hai un piccolo orto, o addirittura con la cariola. E questa è una soddisfazione tutta personale e tutta a nostro vantaggio. Non c'è bisogno di andare a pesare, misurare o a controllare e poi soprattutto non ci si preoccupa neanche di quanta roba prendi e la qualità della roba. Se l'hai fatta tu sai che cosa hai combinato, sai cosa hai prodotto. Quindi gli ortaggi. La frutta che esisteva in queste composizioni, questa composizione l'ho messa perché è un antico quadro di frutta, di varietà di frutta, antica, dove addirittura, ne esistono altri quadri in giro, dove addirittura nel 1500, nel 1600 già si vedevano le vecchie varietà di frutta che sono scomparse negli anni 50 e 60 del 1900. E da quegli antichi quadri si è riuscito a capire quali erano le vecchie varietà e la loro origine. Cioè si sapeva che per esempio queste varietà di mele o melacotonia che c'è qua dietro hanno le stesse forme, le stesse caratteristiche, anche questo è melocotonia, di quelle attuali. Quindi sono varietà antiche. È un'indicazione, può essere utile per dire, ops, ho trovato un melocotonia che fa di questa forma, non è sicuramente geneticamente modificato perché assomiglia, potrebbe essere antico quasi quanto l'agricoltura. Andiamo avanti. Altri frutti spontanei, perché nel nostro orto ci sono alcuni frutti che possono crescere quasi spontanei. Il figo d'India, io lo considero una pianta spontanea, non ha bisogno di nessuna cura. Eppure ci dà dei frutti buonissimi. Esiste anche una varietà apirene, senza semi, oltre che quelli a frutti gialli, arancioni, questi sono quelli arancioni, poi ci sono quelli rossi, rosso violetta, rosso vinaccia, e poi ci sono quelli completamente gialli come questi frutti che stanno qua in basso, ma in realtà questi sono in fase di maturazione, ma sono così anche a piena maturazione. Quindi ci sono almeno 3-4 colorazioni più quell'apirene. Apirene. Come l'uva apirene. Come l'uva apirene o le clementine apirene. Apirene significa senza semi. Dal punto di vista naturale, biologico ed evolutivo, è un'aberrazione, perché quello significa avere un frutto sterile che non può riprodursi. Ma dal punto di vista alimentare è un vantaggio perché non abbiamo tutti questi semini che a volte sono poco simpatici. Quindi piante spontanee o semispontanee, come può essere il prugnolo con tutte le sue varianti di susine e prugne antiche. Oltre questo ci sono quelle, eccola qua, questa qui è una susina antica con dei frutti piccoli, più grossi di ciliegie comunque, che crescono in condizioni naturali. E ci sono di colore rosso, giallo, arancione, viola, bluastro, di tante tonalità e di tante forme. Oltre che rotondo, io chiamo ciò che è rotondo susino, ciò che è ovale prugna. C'è anche una distinzione, prugna e susina viene fatta in base alla possibilità di staccare la polpa dal seme o meno, ma diventa complicatissimo. È una distinzione che fanno molti libri di Agraria, ma poi io sfido ad andarla a vedere senza rompere il frutto. Devi aprirlo, devi assaggiarlo, devi toccarlo il frutto e lo devi aprire e vedere se si stacca la polpa dal seme oppure no. Invece con la forma esterna lo vedono pure i bambini. Rotondo, susina, lungo, prugna. Che tra l'altro in dialetto le prugne e le susina hanno quasi lo stesso nome già con denominazioni dialettali più antiche. Quindi prugno, susina, corbezzolo e quant'altro. Piante che possono crescere veramente con poco e con tante varietà. Queste sono delle indicazioni, vi ripeto, ma ce ne sono tante forme diverse. Invece quelli coltivati, eccoli qua, cominciano ad avere forme un po' più grosse oppure possono avere anche delle forme insolite e strane. Questo conoscete cos'è? Okra. Per senetto. Mi hanno detto che ha un buon sapore. Ah? Ok. Sì, io lo conosco come okra perché la pianta è una pianta della famiglia dell'ibisco e si chiama ibiscus okra o una cosa del genere. E' viscito come sapore? Come consistenza? Ok. Però comunque mi pare coltivato in Grecia, quindi siamo a due passi, stesso clima. Ok. Ah, perfetto, a livello locale, quindi in alcuni punti è anche venduto. Le fave le ho messe perché sono al ciclo autunnale, invernale, primaverile, quindi sono quelle piante che possono andare nei punti in cui non c'è la copertura durante l'inverno, per esempio sotto i ciliegi, tanto per dire, durante l'inverno sotto i ciliegi non dovresti fare quasi niente perché se il terreno è pulito e non c'è da trattare, se è un orto naturale non c'è da trattare quasi niente, potresti farci dei filari di fave o delle aiuole di fave che si avvantaggiano della luce del sole quando il ciliegio non ha le foglie. Quando il ciliegio farà le foglie la pianta già è pronta per completare il suo ciclo. E' una tecnica, è un sistema di aridocoltura per sfruttare lo stesso spazio con due specie in momenti e in periodi diversi. Le carote possono crescere benissimo in questi suoli della Puglia, hanno bisogno un po' di umidità, allora non coltiviamo le carote d'estate che bisogna dare acqua iosa, ma nel periodo autunnale si possono seminare in questo periodo, nascono e poi crescono con poco, con molta meno fatica. Naturalmente vanno aiutate con la competizione delle erbacce, perché in questo periodo non solo loro crescono ma anche le erbe selvatiche. albicocco, prugne e patate e quant'altro può essere sempre coltivato su questi suoli, per esempio le patate anticipando la semina. La semina si chiama semina ma in realtà sono tuberi, sono pezzi di pianta che si piantano. Questa pianta, la patata, ha un fusto sotterraneo che si chiama tubero. Quello che noi mangiamo è il fusto della pianta, tutto il resto sono rami e foglie, sembra che esce dal terreno con una piantina ma quello è già un ramo, il fusto è la parte di patata che sta sotto e questo pezzo di fusto si taglia, si prendono i germogli o si pianta intero e si rigenerano altre piante. La patata si può multiplicare anche da seme ma far maturare i semi e seminarli è un po' più complesso, è una sola nacea, produce dei piccoli frutti come dei pomodorini, piccoli piccoli, più piccoli di una ciliegia o quanto una ciliegia, gialli, di colore giallo a maturazione e dentro ci sono dei semi come i semi di pomodoro, più piccoli. Seminandoli puoi ottenere delle nuove varietà di patata, più grosse, più belle o anche più piccole. Solo con i semi cambi la varietà, altrimenti con il pezzo di pianta è come l'innesto, mantieni sempre la stessa varietà inalterata nel tempo. E poi altri ortaggi che forse, beh questo sicuramente non credo che è coltivato in Puglia, però potrebbe crescere, va bene. Cavolo rapa, questo è il cavolo rapa varietà rossa o violetta, si chiama rossa perché ha sta colorazione sul rosso ma in realtà è violetto e è a ciclo anche questo autunnale-invernale. Si semina in estate, si pianta in autunno e produce i frutti durante l'inverno. È resistente al freddo tra l'altro. E quest'altro qua invece è una zucca rampicante e pelosa. È una pianta della famiglia delle cucurbitacee come tutte le zucche ma ha questo frutto che se mangiato assomiglia più a una patata che a una zucca. È una patata, la chiamola anche sì giusto, patata spinosa. Va sbucciata e va fritta come le patate fritte. Esatto, si ha anche diversi nomi. È una pianta di origine subtropicale quindi va bene nella fascia degli agrumi. All'interno dove fa freddo già stenta un po'. Un'altra caratteristica di questa pianta qui, della patata spinosa o zucca rampicante, è che la pianta si autorigenera ogni anno per cui una volta che ha finito il suo ciclo muore la parte aerea ma la radice rimane viva, rimane attiva e l'anno dopo riparte da capo. Quindi è a rinnovo continuo e questo dura per alcuni anni. Si può usare per coprire i pergolati perché fa una grossa copertura vegetazionale. Quindi un piccolo pergolato, una tettoia per mitigare il clima, magari sotto una tettoia dove c'è la macchina o qualcos'altro, può andare bene. Poi conserve marmellate, ne abbiamo anche questo accennato tanto perché i prodotti dell'orto non restano fini a se stessi a farli vedere, a regalare agli amici ma si possono riconservare durante l'anno. Poi voi alla fine dell'anno mettete sempre sul piatto della bilancia quante conserve avete fatto, quanta frutta avete prodotto, quanta soddisfazione e quanto lavoro. E vedete un po' se ne vale la pena. Io vi dico, scusatemi se lo ribadisco per chi non c'era, che l'orto, piccolo o grande che sia, più o meno biologico che sia, ne vale sempre la pena. Perché il valore di quelle conserve non è due euro al barattolo come al supermercato. Se le avete fatte voi con le vostre mani e non ci avete messo conservante e quant'altro, nei congimi e quant'altro, non è due euro al chilo. Non lo confrontate mai con quello del supermercato. Il supermercato è distribuzione all'ingrosso, è distribuzione di massa, sono prodotti fatti con catene di montaggio dove i costi devono essere bassissimi e dentro ci si mette quello che vogliono. È un prodotto sano, va bene anche quello, però la qualità, sto parlando della qualità di ciò che sta là dentro e di ciò che sta a otto euro non se lo comprava nessuno. Lo si può regalare agli amici che lo apprezzano o per se stessi. Autosufficienza alimentare, si ritornano sempre a quella roba lì. Più si è autosufficienti dal punto di vista alimentare, più si è ricchi dentro, non solo nel portafoglio. Ancora, altri prodotti invece ottenuti dalla lavorazione. Per chi ha la possibilità di produrre birra, si può fare in casa. Ci sono dei passaggi intermedi velocizzati, si comprano dei lieviti, ci vuole acqua pura, non acqua dell'acquedotto che condiene cloro perché il cloro è un disinfettante, disinfetta l'acqua ma ammazza pure i lieviti e lì invece c'è bisogno di lieviti che crescono. L'altro prodotto abbastanza diffuso che conosciamo bene si può fare anche quello in casa in piccoli quantitativi oppure si può fare anche per esempio se si hanno delle mele bacate, rovinate, immangiabili e non abbiamo pazienza e tempo per farne marmellate perché bisogna stare lì a sbucciare e tirare fuori tutte le larve, l'aceto di mele. Nella nostra cucina non è tanto utilizzato ma so che in alcune forme dietetiche è consigliato, è utilizzato e ha dei valori alimentari da non trascurare. Quindi anche le mele prima di buttarle c'è sempre qualcosa che viene prima, come qualsiasi prodotto, qualsiasi oggetto che utilizziamo, prima di buttarlo ci si può fare sempre un'altra cosa. Ancora, piccoli attrezzi in legno per chi si vuole divertire a del tempo o un minimo di hobby o un minimo di attrezzatura oppure anche senza un minimo di attrezzatura. Se hai una pianta che so di sambuco, è una pianta che non ho parlato ma può essere utilizzata in certi ambienti freschi vicino ai muretti a nord eccetera, tra l'altro il sambuco è una pianta di quelle pure non si butta niente, si usano le foglie, le radici, i fiori, i frutti marmellate, con i fiori si fanno gli infusi oppure si fanno le frittate oppure si fanno sciroppo, le radici, la corteccia e le foglie hanno principi medicinali. Tanto utilizzata questa pianta di sambuco che il legno tra l'altro ha una grossa porzione di midollo all'interno, quindi era facile da forare e con il legno oltre ai piccoli attrezzi venivano fatte quelle che erano gli antichi rubinetti per le botti, le cannelle le chiamavano in dialetto perché era facile da forare e quindi si faceva un foro trasversale e poi un altro foro verticale e si formava un rubinetto per aprire e per poter prendere e chiudere il vino dalle botti. Legno di sambuco, ai flauti anche, si se ne faceva un sacco di roba oppure dicevo con il sambuco come il nocciolo, un'altra pianta che produce questi getti dritti, vigorosi, alti 2-3 metri e dello spessore ideale più o meno di quel matterello possono essere utilizzati semplicemente tagliandoli alla base all'altezza desiderata e farne manici per attrezzi. Un manico per attrezzo lo si può fare in casa a un costo quasi zero e poi alla pianta il taglio che si va a fare lo si va a fare sotto forma di potatura quindi vai a sfoltire un pollone che crea un po' problemi magari dove sono troppo stretti allarghi un po' e non danneggi tutto. Ritornando solo un attimo al sambuco una curiosità che mi piaceva ricordare era questa che nella mitologia popolare della Germania il sambuco siccome era una pianta utilizzata sotto tanti aspetti dalla farmacia all'alimentazione si riteneva che era una pianta nella quale viveva una fata di nome Elda e quando i contadini o i boscaioli dovevano tagliare o prendere dei frutti a questa pianta chiedevano il permesso simbolicamente così parlando con l'albero alla fata Elda prima di poterne prendere. Certo la fata permetteva sempre e quello è bello della natura quindi piccoli attrezzi oppure legna per le grigliate perché no avete un giardino vi rimane della legna una grigliata può essere sempre utile anche se non la facciamo noi magari la fa il vicino per mantenere pure i buoni rapporti certe volte può essere utile per chi ha un giardino un po' più grande un orto un po' più grande o un po' di bosco la legna può essere anche utilizzata per riscaldamento e non è anche questo un elemento da trascurare e le porzioni sottili naturalmente come queste indicate adesso in questo momento sono quelle più veloci da compostare le porzioni grosse possono essere compostate però avremo bisogno di un bio trituratore di un attrezzo che le sminuzza velocemente perché aspettare che si decompongono da sole a volte diventa un problema se ne abbiamo troppe ma se sono poche si possono sministare in tanti modi lungo i bordi per trattenere il ruscellamento dell'acqua sia le ramaglie sia i rami possono essere utilizzati per bloccare le erosioni nei terreni in pendenza poi marciscono diventano terreno intanto l'acqua non ha portato via i nutrienti oppure coltivare funghi coltivate funghi appunto quelli spontanei quelli spontanei eccoli qua nel terreno o sui tronchi oppure sulle ballette un angolo del giardino con delle ballette in questo periodo ottobre novembre dicembre potrebbe permettere la fuoriuscita di cardongelli e chiodini che sono funghi facilmente coltivabili basta trovare un angolo della propria casa la candino del giardino che abbia delle condizioni di umidità e temperatura costante e se si riesce a trovare una cosa del genere si possono coltivare per la passione di chi ama appunto questi prodotti altrimenti i funghi possono venire fuori anche in ambienti naturali spontaneamente da un tronco lasciato al margine del giardino in una zona all'ombra non disturbato e dove c'è una condizione sempre di umidità e temperatura idonea quando i funghi escono nel prato così come queste mazze di tamburo in modo spontaneo siate entusiasti perché se nel vostro terreno ci sono dei funghi anche velenosi come quello che mi hanno fatto vedere stamattina è un buon segno significa che il terreno non è stato sterilizzato almeno dagli anticrittogramici e dal troppo solfato di rame io consigliavo l'uso del solfato di rame come un medicinale ad uso esclusivo ed indicativo per il paziente che ne ha bisogno la pianta malata la situazione drastica vai lì e lo usi lì tutt'altra roba è passare col trattore e errorare col solfato di ramo un ettaro di terra quello lo si fa per le produzioni su larga scala funghi i prodotti delle api di stamattina di poco fa anzi li conosciamo tutti che sono dal dal miele la propoli il polline o la propoli la propoli o il propoli come si suol dire è un prodotto che le api lo producono spontaneamente perché ha delle proprietà antibiotiche questa propoli viene utilizzata per sigillare tutti i fori dell'alveare e per sigillare tutte le parti che sono quelle più immediatamente a contatto con l'esterno perché ha proprietà antisettiche disinfettanti infatti si raccoglie una specie di pasta gialla scura o quasi nera come quella lì e viene disciolta in alcol alcol puro e se ne ottiene una mistura insomma che come quella che si vende nelle farmacie ed ha un certo prezzo anche 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 la propoli quindi dicevo un antisettico naturale contro il mal di gole e quant'altro può essere si può essere anche un insetticida per le piante esatto quindi ecco perché dicevo tenere delle api ci può costare x ma ci può dare anche tot poi di vantaggi resine colle naturali dalle conifere si sa si estraeva la resina che è una colla e ma è un po complessa come lavorazione invece questa resina qua a destra potrebbe essere assunta potrebbe essere un'immagine di quella resina che viene fuori dalle drupacee che dicevo stamattina cioè le piante di pesco o di susino mandorlo o ciliegio quando emettono quella resina indurisce a contatto con l'aria quella resina lì che indurisce a contatto con l'aria se immersa in acqua calda diventa di nuovo morbida anzi anche acqua fredda però ci mette un po' di tempo in più anche in acqua si diluisce di nuovo e può essere usata come colla non è che domani tutti faremo i calzolai però vi assicuro che può essere utile per esempio in un momento di emergenza di domenica che i bambini se ne vengono che devono fare le maschere di carnevale e non abbiamo della colla in casa basta andare vicino un albero se ce l'abbiamo se sappiamo ci ricordiamo dove andare a vedere un albero malato che ha cacciato della colla è malato forse a primavera lo toglieremo prima della primavera può essere tolto ma intanto si può utilizzare questo prodotto e fare dell'ottima colla per incollare qualsiasi tipo di prodotto era l'attack naturale di una volta e lo usavano anche i calzolai perché usato e miscelato con opportune attenzioni da una presa molto forte infatti quando è indurito se voi lo toccate quando è duro è molto forte diventa quasi vitreo la proposta di resine e colle naturali poi ancora a un'altra cosa volevo aggiungere a proposito di colle un'altra colla che forse conosciamo è la colla che si può fare con l'amido con la farina basta bastare un po di farina e diventa un ottimo collante fin qua tutto bello tutto rosio tutto ok io ho fatto una scoperta terrificante per esagerare ma terrificante abbastanza perché ho scoperto che i cartoni ondoline eccoli qua stanno sempre dappertutto questi cartoni qua quelli degli imballaggi cartoni di tutti gli imballaggi che esistono oltre a essere fatti da tre strati di carta sottile e dentro ci sono degli spazi vuoti questo è molto resistente ma sono solo tre stati di carta la resistenza è data dalla parte centrale che è ondulata tra due strati paralleli beh sapete come sono incollati nessuno ha mai pensato io me l'ero chiesto ma poi ho detto beh non lo so colla di pesce sì e no colla di pesce sì volevo dire è colla naturale sì ma non è di pesce no troppo poco in commercio la colla con cui incollano immaginate quanti cartoni ci stanno in giro in questo momento e quanti ne vengono prodotti e quante volte si usano una si usano una sola volta e poi si buttano vengono incollati niente meno che con una colla ottenuta col grano ha voglia noi a mandare i rifornimenti di aiuti in africa se qua ci facciamo la colla col grano grano tenero viene lavorato e se ne fa la colla ne basta pochissima però quanti cartoni ci sono al mondo che vengono continuamente prodotti con il grano ragazzi con il grano grano elemento prezioso tanto utile per il pane e poi ci facciamo la colla per i cartoni sì 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 infatti questo cartone non è per uso alimentare infatti questi infatti se ci fate caso tutti i prodotti alimentari non sono mai a contatto con questo cartone questo qui è la confezione che trasporta altri incarti altra carta altra roba dentro e poi alla fine dopo tre quattro incarti c'è anche il prodotto io pure ci raccoglievo la frutta qualche volta ma adesso eviteremo meglio è meglio riciclare una cassetta di plastica oli ed oli essenziali un piccolo alambicco è uno strumento che serve a raccogliere gli oli essenziali a un prezzo relativo abbordabile per una famiglia c'è intorno ai 100 euro un piccolo alambicco e mettendoci dentro delle dei rami di rosmarino di salvia o di tutte le spezie che noi troviamo tutte le aromatiche che noi troviamo in giro possiamo estrarne oli essenziali che hanno dei prezzi sul mercato anche abbastanza elevati questo è un piccolo spunto per chi volesse dedicarsi con un ritaglio di tempo a coltivare piante aromatiche e farne un piccola fonte di reddito producendo oli essenziali conosco qualcuno che ci sta provando tra mille cose da fare la famiglia e bambini e quant'altro però qualche soddisfazione viene certamente ci sono poi canali da vedi vendita il marketing e tutto l'altro però insomma è sempre un qualcosa di utile che ti viene dalle piante che puoi coltivare nel tuo giardino e torniamo sempre alla nostra fonte principale quella di avere un'autoproduzione di qualche cosa ancora spezie e le conosciamo benissimo dai peperoncini alla menta e quant'altro tra le spezie ce n'è una che sta prendendo un po pietre negli ultimi anni perché è una pianta tropicale che viene dal peru e si viene coltivata anche qua la troveremo un po più avanti si chiama pepe rosa forse l'avete visto lo conoscete il pepe rosa è un albero che diventa non grande gigantesco invece il pepe nero è una pianta rampicante che cresce solo in climi equatoriali e da noi non va bene al massimo si può tenere come pianta d'appartamento ma è molto delicata da far crescere perché è una pianta erbacea pepe nero pepe rosa ha lo stesso sapore le stesse caratteristiche solo che è un po più diluito quindi un po più dolciastro è un po meno forte meno piccante del pepe nero però un albero che si può coltivare da noi molto resistente ve lo farà vedere tra un po saponi colori naturali spugne vegetali tutta roba che si può ricavare dalle nostre piante del nostro giardino e già mi fa piacere che tra di noi c'è qualcuno più esperto di me in queste cose e perché già si è cimentato con la produzione di saponi o di colori ottenuti ottenuti dalle piante dalle mie parti c'è l'agriturismo dove nel programma delle tante attività che svolge e tra le tante attività c'è quella di produrre colori naturali a partire da alcune piante come la ginestra per esempio la ginestra comune che se schiacciata produce un colorante di tipo giallo ocra una cosa del genere no questo qui non è di uso alimentare questo di cui sto parlando ma è per contingere i tessuti e quindi questo agriturismo fa vedere a bambini come si raccoglie sta pianta si mette a macerare si schiaccia e si può coloreare un lembo di tessuto bianco facendolo diventare colore marroncino ocra insomma qualche cosa sì ma ce ne sono un'infinità la luffa invece è una spugna vegetale questa pianta è della pianta della stessa famiglia delle zucche che stanno qua dietro ma in realtà la sua zucca tra virgolette sembra un grosso cetriolo di colore verde a maturità diventa marrone si toglie con l'acqua si espella tutta la parte esterna e la parte interna quella che racchiude i semi non è nient'altro che una bellissima e utilissima spugna vegetale si può riciclare non marcisce non ammuffisce e morbida non contiene sostanze tossiche di nessun tipo e non si è neanche andate ad ammazzare un povero animale che si chiama spugna che sta nel mare perché gli animali le spugne il nome spugna deriva da un animale che sta nel mare attaccato agli scogli e si chiama spugna questa spugna che è un animale filtratore tra l'altro molto importante nell'ambiente in cui sta viene preso brutalmente buttato da qualche parte lasciato asciugare al sole poi all'interno dei cristalli di calcio perché ha uno scheletro in un animale sessile attaccato fisso come le cozze ma ha uno scheletro si frantuma lo scheletro si ripulisce e si fanno le spugne naturali ma si è ammazzato un povero animale da un ecosistema questa qua invece se la si può coltivare non si ammazza proprio niente perché basta fare un foro all'estremità si estraggono tutti i semi che possono essere riutilizzati farne quant'altro quel che si voglia e la parte della spugna vi assicuro che l'ho provata perché ci sono degli amici che la coltivano è bella e bella può essere anche un bel regalo di natale perché è una spugna naturale molto morbida a contatto con l'acqua diventa morbidissima quando si asciuga diventa un po' più rigida se la toccate asciutta sembra un po' bruttina un po' ruvida appena si bagna diventa morbida si da questa pianta qua si chiama luffa è una specie e l'acqua si ci vuole un po' si 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 ci vuole un po' di acqua avevo tralasciato giusto? un piccolo particolare deve seccare sulla pianta e nel nostro ambiente dove si allevano gli agrumi fino all'olivo va bene ma l'ambiente ideale sarebbe quello degli agrumi insomma se vi cresce una pianta di agrume là intorno può crescere anche questa pianta sull'albero dell'agrume non tanto perché tende a coprire molto con le foglie e poi limita la fotosintese all'agrume però non è una grande invadente non è sicuramente una pianta che copre tutto fa pochi rami poche foglie solo che va in competizione per la copertura fotosintetica e sarebbe meglio uno steccato oppure la parte interna di un albero spoglio meglio per esempio su un mandorlo un ulivo o a terra pure le fanno sì sì però c'è solo un po' di inconveniente che se piove si sporcano un po' col terreno semi per la riproduzione delle nostre piante e questo qua è un altro dei prodotti da tenere in considerazione perché ritorniamo al solito discorso dell'autoproduzione non solo alimentare ma delle nostre specie così per toglierci di torno la dipendenza posso chiamarla anche tossico dipendenza dei semi marciati con timbro le nostre varietà sono più resistenti e penso che da questa parentesi poi Angelo ve ne parlerà in abbondanza e nei dettagli per tutte le varietà che lui ha cercato in una vita intera in tutti i posti dove ha potuto cercare e vi assicuro che ce ne sono tante e di bellissime perché ha avuto la fortuna di vedere i semi che c'è Angelo c'è veramente da riempirsi gli occhi altro prodotto di cui abbiamo parlato abbondantemente è compostaggio e qua in basso a destra eccolo qua un particolare del biotrituratore si infilano i rami da una parte l'attrezzo funziona elettricamente naturalmente sempre per fare prima ma non ha un grosso né un grosso costo né un grosso consumo e tutti i materiali integri intatti vengono sminuzzati velocemente sminuzzarli significa accelerare il processo di decomposizione biotrituratore è un attrezzo per chi ha un giardino già di una certa dimensione ma ce ne sono alcuni anche quasi come giocattoli però diffidate da prodotti non di marca perché se no ci si resta delusi quando si importano dei prodotti dall'estero a costi bassissimi mi riferisco ai soliti prodotti cinesi che funzionano tre giorni e poi si rompono quindi se dovete comprare un attrezzo che sia sempre di qualità io non consiglio di comprare scarpe di marca se le trovo in offerta le compro e poi cancello il nome perché me ne vergogno di portare delle scarpe di marca pensando di averle pagate 150 euro e il mio ideale, il mio pensiero è quello cancello il nome o se posso lo ritaglio via perché mi serve una scarpa che sia di buona qualità però neanche voglio una scarpa cinese fatta con plastica riciclata di pessima qualità con un prezzo adeguato che non sia 150 euro perché produrre un paio di scarpe oggi costa 5 euro sia se di qualità e sia se cinese anzi 3-5 euro quello è il prezzo di un paio di scarpe così come i jeans costa 3 euro produrre un paio di jeans sia se di qualità che sia di marca quello di qualità è più rifinito è più curato è più attento però non è che se non è di qualità per forza deve essere cinese c'è anche una qualità italiana di prodotti nostri buoni ottimi senza essere strillati da tutte le pubblicità che sono più che sufficienti come prezzo e qualità noi in Italia produciamo un sacco di roba che non è stata mai valorizzata abbastanza non è stato mai fatto marketing a sufficienza sui nostri prodotti perché ce li rifilano da fuori o prodotti di marca super costosi o prodotti di sottomarche super economiche i soldi prodotti cinesi non voglio fare cattiva pubblicità alla cinesi ma devo fare un po' di pubblicità per i nostri prodotti italiani che poi si parla di crisi quando non c'è cultura di utilizzare ciò che abbiamo in casa si guarda ciò che sta fuori e non si apprezza quello che sta nel nostro giardino anche i prodotti industriali d'Italia sono quelli del nostro giardino non dimentichiamoci che noi come Italia siamo l'unico paese al mondo che aveva 10 o 12 case costruttrici di automobili diverse case costruttrici di automobili neanche gli Stati Uniti e il Giappone messi insieme ne avevano tante quanto le aveva solo in Italia poi le hanno unificate è cambiato tutto ma perché questo? perché gli italiani è un popolo che si attrezza si dà da fare un popolo che è stato sempre al centro dei commerci dei movimenti e anche se siamo tranquilli e rilassati come si suol dire certe volte però non dormiamo e questo ci permette di essere sempre i primi nel mondo perché poi quando riconoscono il valore degli italiani tutti quanti dicono oh che bello l'Italia altri produttori primari di humus i lombrichi di cui avevamo parlato e vado velocemente e poi aumento della biodiversità coltivare un orto significa anche aumentare la biodiversità averne di più proprio sulla terra non solo la biodiversità di cui si parla a scuola e poi si chiude il libro e se è finita la biodiversità la coltivi ce l'hai e poi vedremo anche che qui adesso è un aumento di biodiversità ma tra poco diventerà anche uno dei fattori delle opportunità che è quella della conservazione della biodiversità non solo la coltivi ma la conservi e va bene mi pare che ci siamo eccoli qua questi sono tutti gli elementi che ho tirato e messo in ballo e ho tirato in mezzo senza troppe forzature perché sono tutti prodotti che ci ritroviamo tutti intorno tutti i giorni dalla colla all'ossigeno gli ortaggi la frutta i colori naturali le spezze i funghi le resine saponi attrezzi in legno la legna miele e cera mitigazione del microclima materiale per il compostaggio semi per la riproduzione delle piantine e aumento della biodiversità sono nostri vantaggi nostra produzione made in Italy o made in Puglia se vogliamo estetico l'ho messo tra le opportunità si sta lo vediamo tra un attimo avevo fatto una distinzione che volevo spiegare insomma se qualcuno crea confusione attrezzi in legno legna e legname sono tre categorie diverse gli attrezzi in legno vabbè si capisce la legna è quella per il fuoco il legname è questo per le costruzioni questo è legname da opera legname da imballaggio legname da costruzione legname ed ile legna per il fuoco giusto una piccola parentesi a volte mi si chiede quale può essere la differenza va bene e ci siamo anche qua adesso andiamo avanti con le nostre opportunità un attimo solo se il computer mi fa chiudere sta pagina no non vuole collaborare con la giustizia allora chiedo l'intervento tecnico della mia manager o di qualcuno volontario grazie grazie Raffaele grazie a tutti 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 con le nostre opportunità ma un attimo che arriva il monitor un po' di pazienza per i problemi tecnici perché è saltato è saltato con l'argomento ok ci siamo allora le opportunità qui anche tra le opportunità ho messo delle immagini prima delle immagini e poi alla fine l'elenco il resoconto di tutte quelle che sono alcune delle opportunità che possiamo trarre dal nostro giardino foresta nutrizione è un'opportunità l'immagine è simpatica è bella è indicativa perché quel bambino adesso noi sappiamo cosa sta mangiando se l'abbiamo prodotto noi e la nutrizione ragazzi insieme all'ossigeno è quel fattore di cui abbiamo bisogno continuamente l'ossigeno sempre la nutrizione possiamo saltare un giorno ma il giorno dopo già non ragioniamo più quindi è un fattore di cui ne abbiamo sempre ne abbiamo sempre bisogno quando mangiamo ricordiamoci tutto quello che portiamo a tavola bello buono comunque sia viene dalla terra e io mi sforzo a scuola perché i ragazzi se lo sono dimenticati e a volte anche i genitori l'hanno dimenticato un qualsiasi prodotto agricolo pure la merendina incartata e confezionata viene dalla terra e se non ci fosse la nostra cara amata terra con il suolo e tutte le componenti non si può produrre niente senza la terra poi la terra se si bagna col fango con l'acqua diventa fango e per molti bambini purtroppo io quando faccio i campi WWF mi accorgo che molti bambini se si sporchiano le scarpe di marca vabbè della WWF non ce ne sono tante però in altri campi dove ci sono scarpe di marca che si sporchiano fanno uh che schifo il fango sulle scarpe nuove ma tutti schifi della terra no e dell'acqua no e quella che c'è sulle scarpe è fango più acqua cioè terra più acqua è fango non è niente di cui schifarsi andiamo avanti educazione ne avevamo accennato e lo ribadiamo come concetto se si può avere la fortuna di custodire di curare un giardino o di portare i bambini in queste situazioni vi assicuro che ripaga nel tempo l'investimento che diamo su un bambino io l'ho scoperto da grande perché fino all'altro giorno non ne avevo ero piccolo e quindi dicevo vabbè tanti bambini poi crescono sì i bambini crescono anche un po' spontaneamente come le piante però i bambini hanno bisogno di cultura di educazione di amore sappiamo quanto hanno bisogno e se i bambini da piccoli non vengono educati al rispetto per la natura poi lo scoprono a caso da grandi chi si e chi no chi si perde e chi ci arriva prima e chi ci arriva poi e invece da piccoli gli si può dare questa possibilità è un'opportunità è una fortuna di portarli qualche volta in campagna e perderci del tempo con loro e farli razzolare come i nostri polli e se si sporchiano fanno bene tanto c'è la lavatrice non c'è niente di cui allarmarsi e i bambini ecco quella foto lì a destra in basso è molto indicativa loro non riusciranno a combinare tanto non riusciranno certo a produrre però il fatto che abbiano usato l'attrezzo si sentono utili e si sentono partecipi purtroppo nelle realtà contadine i bambini venivano messi da parte anche lì perché diciamo vabbè sei piccolo togliti che devo fare io e togliti oggi togliti domani il bambino si è tolto dall'agricoltura una volta per sempre se ne è andato all'industria e non ci è tornato più un esempio indicativo per dire l'allantornamento della natura e il riavvicinamento può essere aiutato per chi ha la possibilità di avere ancora dei bambini da portare in giro o da far crescere in questi ambienti riforestazione altra opportunità l'avevamo sfiorata a proposito della desertificazione riempire uno spazio abbandonato mi riferisco per esempio a un campo abbandonato un prato abbandonato un ex coltivo o un ex frutteto abbandonato ce ne sono a bizzeffe nel sud Italia questi luoghi abbandonati a se stessi fanno una fatica enorme a recuperare e qui entra quella piaga sociale fetente che sono gli incendi un prato abbandonato viene spesso e volentieri incendiato per motivi più futili che esistono so addirittura che si appicca il fuoco per la ricerca delle lumachine che si usano a tanto in certi luoghi da mangiare oppure perché dopo l'incendio escono certe varietà di funghi o gli asparagi selvatici cose da pazzi un campo abbandonato è soggetto a desertificazione se ha cicli di questo tipo ecco dove viene la desertificazione e questo è un risvolto pratico un consiglio che mi si chiedeva cosa posso fare pianta degli alberi alla rinfusa anche se non vuoi fare forest gardening e avere nutrizione mettici degli alberi alla rinfusa che ti ripagheranno tantissimo nel tempo c'è una tradizione bellissima che si usa purtroppo in un posto piccolissimo in provincia di Avellino o Benevento da quelle parti sulle montagne quando nasce una bambina non gli si crea la dote cominciando ad accumulare panni che poi se li troverà d'epoca quando si sposa si piantano è un valore diciamo così si fa un'altra cosa che ritengo molto bella molto saggia ritengo saggia perché mi dispiace che non è molto diffusa si pianta un ettaro o due di noci alberi di noci al di là di tutte le credenze le superstizioni e le sciocchezze che ci sono fanno bene ad essere così attivi e positivi cioè si piantano questi noci un ettaro o due quello che sia a disposizione per questa bimba perché si sa che quando la bimba sarà una donna e dovrà sposarsi da quel campo di noci avrà una rendita che intanto è cresciuta quasi in modo spontanea che si possono abbattere per esempio questi noci per fare la casa avrà bisogno di una casa una sistemazione e allora in quel momento gli serviranno i soldi per quello che deve fare magari studiarci all'università che vale più dei panni insomma relativo ma non voglio entrare nei dettagli voglio solo dirvi un terreno abbandonato può essere utilizzato sotto tante forme provincia di Benevento e Avellino in Campania insomma la zona interna della Campania in Puglia cosa si potrebbe fare terreno abbandonato incolto per quanto si chiami dal catasto incolto produttivo cose di questo tipo metterci delle piante di macchia mediterranea o se vogliamo qualcosa di economico miscelare leccio con pini pino d'Aleppo e leccio il pino d'Aleppo cresce velocemente quindi dopo 20 anni hai della rendita da trarne intanto hai mitigato il suolo intanto hai prodotto massa biomassa compost humus ricchezza funghi e quant'altro e poi intanto stanno crescendo i lecci insieme al pino d'Aleppo il pino d'Aleppo viene sostituito non è per sempre nulla è per sempre in natura a proposito delle foreste tropicali dicevo anche lì gli alberi non vivono per sempre vengono sostituiti e si lascia crescere le piante spontanee della nostra macchia mediterranea che erano state distrutte già da qualche centinaio di anni e che adesso fanno fatica ad essere immesse in un campo del genere piantare i lecci in un terreno di gariga quella che era il processo di depavolamento dopo la macchia mediterranea fa fatica il leccio crescerebbe la macchia si potrebbe mettere che so il ginepro che è un arbusto anche una conifera resistente e quant'altro ma ci vuole molto tempo allora si può intervenire con queste specie che i forestali chiamano specie all'octone cioè portate da altri luoghi li guardano come se fossero alieni non sia mai mettere quella pianta che non è del posto sì ok facciamo attenzione quella pianta che non è del posto non deve invadere e riempire tutta la Puglia e tutti gli ambienti ok però ci sono tante specie innocue che hanno un periodo di vita limitato e intanto in quel periodo di vita limitato puoi trarne dei vantaggi economici quindi mai tenere un terreno abbandonato e lasciato a se stesso i giochi che fanno i ragazzi a scuola ultimamente in qualche campo dove fanno l'orte e quant'altro li aiuta proprio a crescere in questo senso e come famiglie come genitori o quant'altro possiamo dargli una mano a mettere delle piante in questi ambienti non bisogna stare a preoccuparsi uh arriva la desertificazione no tirarsi sulle maniche abbiamo un campo abbandonato mettiamoci degli alberi e proteggiamoli dal fuoco già abbiamo fatto tanto il forest gardening è un apice di una situazione bellissima idilliaca e raggiungibile ma ci sono tanti stadi inferiori a cui ci possiamo arrivare velocemente facilmente e ci possiamo accontentare questo è il messaggio che voglio dare se non riusciamo a fare un orto bellissimo come quello delle foto mostrate prima non fa niente non c'è da scoraggiarsi ci si riprova un'altra volta con il nostro piccolo aiuolo con l'appezzamento ma intanto recuperiamo ciò che sta andando a rotoli secondo me protezione del suolo qui c'è una situazione estrema ma l'acqua voi sapete che comincia a ruscellare anche con un millimetro di pendenza quindi la Puglia non è esente anche se la Puglia sembra tutta piatta e tavolati ma un millimetro di pendenza c'è dappertutto c'è quasi dappertutto e l'acqua ruscella va via l'acqua di ruscellamento è un'acqua importantissima preziosa deve essere trattenuta non deve essere fatta andare via perché se va via porta via i nutrienti prima cosa ti scava il terreno e te lo lava lo lava quello che succede in modo catastrofico durante le alluvioni l'esempio di cui parlavamo prima ieri con Gianluca a proposta degli agrumeti tutti tenuti puliti arati e controllati ma con l'alluvione sono stati a loro volta dilavati tutte le sostanze nutritive tutto lo strato più fertile è stato portato via e adesso dovrà essere ripreso da qualche altra parte rinfilato negli agrumeti altrimenti deperiranno le piante dove c'era lo strato erbaceo solo un prato solo un prato ha trattenuto le sostanze nutritive addirittura le ha arricchite perché l'acqua dove ha trovato l'erba non è andata velocemente ha rallentato il flusso oppure si è fermata e ha lasciato decantare i sedimenti e io scherzando ieri con Gianluca diceva che aveva fatto quello che hanno fatto gli egiziani con il Nilo 4.000 anni fa non dobbiamo aspettare le alluvioni dobbiamo accontentarci anche di quel po' di acqua che arriva normalmente di qua e di là ma il suolo va protetto conservazione della biodiversità è il punto di pochi minuti che avevamo visto pochi minuti fa la biodiversità quindi la si può conservare attraverso la crescita di queste piante che non sono solo gli ortaggi e i frutti di melo e pero delle antiche varietà ma anche i fiori sembra strano non l'avevo tirato in mezzo perché pensavamo sempre alla pancia per prima e al portafogli ma anche per la mente per la cultura per lo spirito ci sono dei fiori delle particolari varietà di fiori di rose di iris o quant'altro che sono coltivati a livello locale e anche quelli stanno sparendo velocemente sempre perché ci sono fiori nuovi più belli più rigogliosi da piantare e poi da innaffiare e poi da proteggere dalla cocciniglia queste antiche varietà di fiori sono bellissime lo stesso molte di queste sono piante di fiori selvatici che stanno nei nostri campi sparpagliati in ogni dove e sono bellissimi perché vanno avanti da soli o con pochissime cure e non stressano curarli spiritualità e questo è tutta una parentesi a parte che dipende dalla nostra sensibilità io ho messo delle immagini indicative di alberi con forme strane oppure abbracciare gli alberi oppure stringersi la mano con gli alberi questa frase mi piaceva perché riguarda anche gli animali se la sostituiamo amare gli alberi o gli animali significa condividerli senza possederli noi purtroppo diciamo il cane è mio sì il cane è mio certo che è mio ci devo tenere cura devo dargli a mangiare quant'altro ma ha bisogno del suo spazio della sua libertà è un animale nella natura anche noi siamo nella natura la terra è mia ma non ce la possiamo mangiare ancora per fortuna quindi la terra è qualcosa che rimane e chi viene dopo e quindi è un dono prezioso da custodire e da arricchire possibilmente se ci riusciamo voi immaginate tutte le liti che ci sono state per i confini fino ad immaginare gli stati le nazioni che si sono fatte le guerre per rubarsi la terra perché la guerra non è altro che uno spirito un'iniziativa del cavolo per rubarsi la terra e quant'altro con tutto quello che c'è sopra rubarsi la terra perché l'uomo è sempre affamato di terra ma poi tutti gli imperatori e tutti i latifondisti questa terra non se la sono portati appresso quindi la terra va custodita e va lasciata in eredità è un bene prezioso e io invito a riflettere o possibilmente a ragionare in questi termini custodire e lasciare in eredità voi sapete quella frase che disse un capo indiano del nord america quando gli stati uniti stavano allargando e avevano spinto ormai gli indiani nelle riserve e gli dissero a un capo indiano quanto vuoi grande capo per la tua terra e lui disse ma la terra non è mia io non l'ho avuta da nessuno non l'ho comprata me l'hanno lasciato i miei antenati non te la posso vendere questo la dice lunga anche se la terra oggi è un valore viene venduta o viene ceduta in tante forme comunque è un bene che viene trasferito e non è qualcosa da possedere a tutti i costi e tenerla lì sotto i piedi certo non è permesso neanche che gli altri ci buttano le buste di spazzatura che ci passano con il fuoco sopra e quindi va protetta va tutelata ok però è un bene da trasferire questo sì che è uno dei famosi doti una delle famose doti da lasciare a chi viene dopo un pezzo di terra con un giardino con degli alberi si possono avere sempre delle risorse è un piccolo investimento certo un pezzo di terra non renderà quando un appartamento in centro me ne rendo conto ma se ce l'hai e ne vuoi tenere cura comunque ne puoi trarre i suoi vantaggi i suoi benefici che sono costanti nel tempo della frutta della legna o del miel ci sarà sempre bisogno non arriva mai il giorno che dicono ah oggi ne facciamo a meno di mangiare sarà molto difficile nel prossimo futuro anzi aumenterà ancora di più il fabbisogno e i costi di produzione a proposito di queste due immagini di chi abbraccia gli alberi so che esiste un sistema addirittura ma questo fa parte di una spiritualità un po' oltre le nostre forse le nostre intenzioni di coltivare l'olto ma lo voglio raccontare perché è qualcosa che a me affascina personalmente io da piccolo pensavo sempre che gli alberi parlavano ma non lo dicevo mai a nessuno perché sapevo già che tutti avrebbero riso dicendo che non avevano le orecchie e non avevano la bocca né per ascoltare e parlare in questi ultimi cinque anni sono state fatte delle scoperte di alberi che comunicano attraverso sostanze chimiche gli alberi comunicano e io l'avevo sospettato perché li amavo gli alberi e quindi avevo pensato che comunicassero in qualche modo anche perché avevano dato delle situazioni un po' strane adesso è stato scoperto scientificamente adesso vale che gli alberi comunicano attraverso sostanze chimiche e la prima scoperta che è stata fatta è quella che sembra che il loro centro di comunicazione la loro tra virgolette mente pensante si trovi nell'estremità delle radici nell'apice radicale nella punta delle radici perché la punta delle radici fa qualcosa di misterioso ancora oggi nel riuscire a individuare dove sono i nutrienti dove c'è l'umidità dove c'è migliore ancoraggio in un suolo al buio è senza sistema nervoso in zoologia si dice che gli animali sensibili sono quelli con sistema nervoso e se non hanno il sistema nervoso già non li considerano neanche più di tanto invece no è una forma di vita anche l'albero vive, cresce, nasce si riproduce e muore come tutti gli esseri viventi quindi ha una sua sensibilità ha una sua crescita io vi invito ancora sempre in questa ampia parentesi vi invito a fare una cosa se i vostri alberi non li potete innaffiare tanto passateci una volta in più a curarli a vederli ad accrezzarli a preoccuparvi di come stanno ad aggiustare almeno il paletto perché il vento gliel'ha spostato lo gradiscono altri studi dicono che le piante gradiscono anche l'ascolto della musica producono di più l'avevano visto con le vacche da latte adesso si sono accorti pure gli alberi e io dico guarda un po' si sono accorti che anche gli alberi sono esseri viventi ma pensa un po' perfetto si 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 perfetto proprio quelli si certo io dico sempre che non bisogna avere la presunzione di dire quella cosa lì non è bella non funziona non va bene non mi piace solo perché non c'è uno strumento per misurarla non abbiamo ancora un macchinario che misura quanto parlano gli alberi e cosa dicono non c'è il macchinario per misurarlo non c'è lo strumento elettronico ma loro lo facevano lo fanno pure molto bene non bisogna avere la procedura di dire che siano limitate perché non hanno un sistema nervoso centrale e un cervello da un kilo e sei ognuno è specializzato non esiste intelligenza esiste specializzazione e lo vediamo tra di noi a scuola il ragazzo che a scuola era indietro nei banchi come me che non non era tanto apprezzato perché andavo male in matematica io adesso riconosco più piante dei miei amici che erano bravi in matematica loro sono degli specialisti adesso sono degli ingegneri io sono un naturalista e una specializzazione diversa così tutti gli altri e così tutti i bambini che crescono mai farli sentire a disagio perché non sanno fare quello che fanno gli altri sanno fare un'altra cosa sono specializzati caso estremo della specializzazione le piante specializzate ognuno nel loro ambiente no 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 aspetta non ho finito ti ringrazio ma non ho finito le piante e gli animali gli animali sono degli specialisti nel loro ambiente il predatore sa fare il predatore la preda sa fare la preda sa sfuggire al predatore fino a un certo punto quando non sa sfuggire diventa preda e poi diventa compost e ognuno di loro è specializzato è super specializzato come riesce a trovare gli insetti un uccello come costruisce il nido di uccello non ci riuscirebbe nessun sarto a intrecciare quei fili d'erba così piccoli a farne un nido che sembra una composizione insomma impossibile anche da immaginare e così via io punto su questo perché mi piace questa idea che esiste la specializzazione e non esiste l'intelligenza che si misura con i quozienti e con tutte quelle stupide classifiche che ti fanno fare certe volte con i test di intelligenza i test di intelligenza ma da dove vengono chi li ha fatti li ha fatti qualche altro intelligentone che era bravo a fare i test ma lasciamo perdere scusate ma la penso così e allora c'è un altro sistema di comunicazione che è quello di trarre energia quindi comunicazione questa volta energia intrinseca attraverso il contatto con gli alberi e l'ho scoperto poco tempo fa dove c'è qualcuno che insegna questa tecnica ve la do per sommi capi poi ognuno approfondisce quando viene più interessare dove se tu vuoi parlare con un albero si mette la mano destra sull'albero e la mano sinistra dietro la schiena in modo che tu ascolti cosa l'albero c'ha da dire quando vuoi comunicare metti la destra dietro e la sinistra sull'albero e tu comunichi all'albero le tue sensazioni è qualcosa un po' di mistico potrebbe far sorridere però vi assicuro che abbracciare un albero del genere qualche soddisfazione la dà specialmente se una grossa quercia del genere cominci a pensare che sta lì prima che scoprissero l'America che è nata lì in quel posto nel 1300 quando Dante Aligrieri scriveva la Divina Commedia quell'albero era nato ed è sempre lo stesso gli alberi sono delle creature longeve a me affascinano per questo fatto di poter superare i secoli e quindi è qualche cosa che merita rispetto già di per sé andiamo avanti benessere psicofisico stare in un giardino all'ombra sicuramente può essere molto più piacevole che non stare in un campo appena bruciato come quelli che dicevo prima risparmio economico è l'ultima delle parentesi che ho messo e con questa finiamo oggi perché il risparmio economico non è l'ultimo in ordine di importanza l'ho messo all'ultimo perché volevo catturare l'attenzione sul fatto che la vita si dice costa di più i prodotti costano di più e da tutte le parti si sente parlare di quelle assurdità che dicono sotto forma di crisi le crisi che si parlano in Italia scusatemi se mi permetto per l'ennesima cosa che tiro in mezzo sono crisi bancarie rifilate ai lavoratori alle persone se le banche non possono investire sono cavoli loro l'hanno creato loro quel cavolo di meccanismo e ce lo fanno ripagare a noi ma la crisi che intendo io la crisi economica è quella di quando non si riesce a trovare un pezzo di pane da portare a tavola quella è crisi a 300 km più a est ci può essere a 250 km più a sud ci può essere e mi riferisco all'Albania o alla Tunisia chi si imbarca su un gommone che rischia della vita ha la crisi ma l'Italia bisogna esserne orgogliosi di questo è uno degli stati più ricchi al mondo e con tutti i nostri problemi con tutte le nostre angosce le nostre speranze comunque qua il pane c'è e finché c'è il pane c'è speranza come? esatto sì se non lo puoi comprare diventa un problema ma finché puoi coltivare il tuo orto finché riesci a trarre un minimo ecco risparmio economico quel minimo di risparmio ragazzi io vi posso dire praticamente con un ettaro di terra o con mezzo ettaro di terra si riesce ad avere l'autosufficienza alimentare per quando riguarda la frutta e gli ortaggi e poi se vogliamo aggiungerci le uova togliete questo dalla spesa di tutti i giorni e fatevi un po' ognuno i vostri conti di quanto può essere quel risparmio economico che può essere riversato su tante altre attività ok ricapitolazione delle opportunità nutrizione educazione le abbiamo viste riforestazione protezione del suolo conservazione della biodiversità spiritualità benessere psicofisico e risparmio economico in riassunto queste sono le alcune sono le opportunità che io ho voluto mostrare per darvi degli spunti ma sono alcune delle opportunità che possono essere tratte con un minimo di impegno e con tanta passione ci vuole tanta passione e quella mi fa piacere che la sendo nell'aria che aleggia diversi stadi io immagino che ognuno di voi ognuno di noi ha una passione più propensa per magari per le resine per i profumi o per la frutta o per qualche altra cosa ed è bello che sia così va bene questo è quanto per oggi se se non ci sono domande grazie grazie a tutti grazie a tutti